Per me bellezza è... La bellezza è qualcosa di soggettivo. Bellezza è saper aver carattere. Essere naturali. Sentirsi bene con se stessi. Con il proprio corpo e con la propria mente, con le proprie idee. Essere contenta di come sono. E inseguire i propri sogni. Cioè devi piacere te stessa. Dare la vera immagine di se stessi. Senza cercare di apparire chissà chi o chissà cosa. Se uno sa credere in se stessi, sa anche essere bello agli occhi degli altri. C'è la bellezza fisica che con il tempo però va svanendo. E invece la bellezza quella interiore rimane per sempre. Sta nelle piccole cose. In un sorriso. Solarità soprattutto. Io non mi piace quindi... Non sono molto affidabile. È una stagione che non mi piace. Preferisco l'estate perché odio il freddo, odio il buio, odio tutto dell'inverno, l'umidità, il vento e tutto quanto. Sei venuta a me. È un pupazzo di neve con una sciarpa molto calda. L'inverno è bianco, la neve è bianca. Quindi... Semplicità. Studio, tranquillità e... È freddo. È freddo, è freddo. Però anche la stagione di stare sotto le coperte con la cioccolata, magari con il tuo ragazzo. Se lo sia, altrimenti con i cani che fanno anche bene. Tante cose coccolose. È calore, abbracci con gli altri. L'affetto. Famiglia e semplicemente Natale. Per me Natale non fa parte dell'inverno perché Natale è una cosa a parte, è bellissimo. Neve, Natale e amore. Stare sotto le coperte con i miei cani a guardarmi un film. Copertina, Netflix. Tutte le coperte, magari con una cioccolata calda. È la mangiare della condivisione, poter passare del tempo prezioso insieme. È una bellissima stagione. È Miss Inverno.